musica vuole dichiarare qualcosa per me di questo pazziano a quelle ghieti si, spero di non credere signori è partito è Marco Righi in pigiama per la quindicesima marco internazionale di San Polino a lui musica 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 signori ci siamo ricollegati quella quindicesima marco da San Polino Marco Righi rimane in testa come potete notare sta sponsorizzando la nuova tuta nike modello pigiama notte Marco Righi sempre in testa che cazzo vai che cazzo vai noi ci andiamo collegati a Marco Righi a un calo prestazionale lei la sente sulle gambe e lo stacco col resto non li vediamo nemmeno solo chilometri di distanza con Marco Righi che cazzo vai che cazzo vai che cazzo vai e poi come la tenda ralba e è vittima Vuole dedicare qualcosa a Corighi? Sì, ci ho fatto adesso. Sono molto contento, io questo porterò il mio mister. Molto contento, sì. Molto contento. Lo dedica a Dio questa vittoria come sempre o? No. Dio com'è, è stato magnano. Oggi ha puntato il naso un po' meno lì su del solito. No, basta. Ari, cazzo mangi. Il petto di pollo. E' buona per la marmella stadi. Ciao. Ciao. Grazie per la visione